Girls in Car fa parte di una serie della fotografa Shirin Ali Abadi, in cui documenta un fenomeno che era piuttosto comune all'inizio dei 2000 a Tehran, ovvero quello delle serate passate in automobile. Sostanzialmente la giovane classe media, per ovviare alle limitazioni nel rapporto tra generi, decideva di passare la serata in automobile e quindi creava dei grandissimi ingorghi all'interno del traffico a Tehran. Perciò le ragazze che vediamo all'interno della macchina sono truccate, vestite come per andare a fare una serata fuori e in realtà passeranno la serata in macchina a divertirsi con le amiche interagendo con le altre persone nelle altre automobili. La voce di Shirin Ali Abadi ha sempre raccontato episodi e momenti dell'emancipazione femminile e quello che ci racconta questa fotografia è anche una visione diversa dagli stereotipi che possiamo avere, che spesso corrispondono con una visione eurocentrica e normata di che cosa possono essere le occasioni di interazione sociale o di divertimento. Sono passati vent'anni dal momento in cui Shirin Ali Abadi ha scattato questa fotografia e è diventata un simbolo in qualche modo del processo per l'emancipazione femminile in Iran, che ovviamente oggi ha un eco ancora più importante visti gli accadimenti dell'anno scorso e le grandissime proteste a livello internazionale che ci sono state dopo la morte di Masa Amini. Per questo motivo abbiamo pensato che mostrarla oggi potesse essere un modo di amplificare una voce che ci racconta qualcosa e ci dà degli strumenti per capire meglio la contemporaneità.